Nella giornata di domani qui alla Darsena arriverà il nostro nobile Pandolfo III in barca, quindi ci sarà alle ore 21 un corteo che partirà da Piazza 20 Settembre e verrà qui alla Darsena Borghesi in attesa che il nostro nobile Pandolfo III arrivi, farà il suo ingresso qui in barca solennemente, da qui poi a cavallo proseguirà e andrà fino a Piazza 20 Settembre dove si darà inizio ufficialmente ai giochi tramite l'accensione di alcune torce che daranno inizio ufficialmente ai giochi del Palio delle Contrade, quindi vi aspettiamo qui alla Darsena Borghese, abbiamo fatto uno studio grazie alla professoressa Falcioni dove logicamente ci ha indicato che questo porto era il primo porto fanese, quindi di epoca medievale, quindi abbiamo voluto dare luce anche a questo spazio, questo ricordo che è della nostra città e dà importanza al Medioevo tramite questo piccolo evento che andremo a mettere in scena.